Musica Amiche e amici di Rossini TV, ormai il trucco l'avete capito, siamo in studio ma siamo in teatro ed è tornato a trovarci Christian Della Chiara. Ciao Christian. Ciao Paolo e ciao a tutti gli spettatori di Rossini TV. Allora siamo di nuovo qua a una settimana di distanza per avvicinarci sempre di più a questo festival che ha già visto un appuntamento tra l'altro di anteprima ma che a questo punto sente sempre di più l'aria di entrare nel vivo di quella che poi è la gara. Perché ricordiamo che il festival ha tantissimi momenti integrativi, non mi piace dire collaterali, integrativi perché sono un arricchimento, non è una cosa marginale. Ma poi sostanzialmente si compone nel suo nucleo della gara perché poi è vero, si partecipa, la rassegna, l'abbiamo detto e lo ridiremo, essere già selezionati è già aver vinto, addirittura partecipare è già aver vinto perché c'è questa sorta di preselezione che le compagnie fanno su se stesse. Ma poi quando è ora ci tengono tutti perché poi c'è una giuria, c'è un lavoro da fare, c'è un premio più di uno, premio da dare, insomma si lavora sempre anche dal punto di vista un po' competitivo. Assolutamente e poi però è bello vedere come la competizione che come hai detto tu è sana, è anche molto sentita, poi si scioglie quando facciamo la festa finale. Dopo la premiazione ci ritroviamo, il momento forse più bello del festival, tutte le compagnie ci ritroviamo assieme a pranzo e lì non solo ci si complimenta con i vincitori, ma si percepisce veramente un clima estremamente cordiale, familiare, affettuoso, il momento emotivamente più alto del festival si ha a festival concluso quando ci si ritrova tutti assieme a creare un bel sodalizio. Le compagnie poi continuano a sentirsi, a collaborare su altre piazze, oltre si conoscono a Pesero e poi continuano le loro collaborazioni in altre piazze d'Italia. Quindi è veramente un bel momento, però dici bene, è la competizione, è vissuta molto seriamente, tutti tengono a fare bella figura, tutti tengono anche a provare a vincere uno dei numerosi premi. Tra l'altro questo è il risultato di questa scelta coraggiosissima che tu hai fatto ormai qualche anno fa che ha portato a questa formula ormai consolidata, questa formula che all'inizio avevamo chiamato Compact, che in realtà adesso è la formula del festival consolidata. Perché dico il risultato? Perché le compagnie si fermano anche a guardare le altre rappresentazioni. Esatto, è stato non facile perché comunque ricordiamo che noi siamo un'associazione che vive della passione e della generosa disponibilità dei soci che si mettono a disposizione. Quindi organizzare un festival così intensivo è certamente molto impegnativo dal punto di vista dell'impegno, delle ore da mettere a disposizione. Però è stata una fatica ripagata perché la formula ormai si è consolidata, il fatto di avere le compagnie a Pesaro per qualche giorno e quindi poter non solo fare amicizia fra di loro, vedere l'uno e gli spettacoli degli altri, ma essere anche un elemento di grande promozione del territorio. Perché le compagnie vengono qua, ogni compagnia si presenta a Pesaro in 10, 15, spesso più persone, perché poi colgono l'occasione per fare anche una piccola vacanza. Se nella nostra città gli diamo la possibilità di visitare il territorio, gli portiamo a vedere le bellezze che offre la città e che offre il territorio, chi va a Urbino, chi vede i musei della città ovviamente. Quindi insomma è un momento veramente anche di incontro, ma anche di promozione del territorio. Quindi una formula di vero festival che è stata faticosa, ma una fatica che ora è ripagata e di cui siamo molto soddisfatti e anche molto convinti. Anche i prossimi anni sarà così. Io me lo vedo il telespettatore e la telespettatrice di Rossini TV che in questo momento si è fermato un attimo e mi dice ma questi due di cosa parlano? Allora bisogna sempre fare una piccola spiegazione. Stiamo parlando della settantasesima edizione del Festival Nazionale dei Gruppi Arte Drammatica, dei GAD, come è chiamato in sigla e in acronimo, che si tiene in questi giorni e nelle prossime settimane a Pesaro al Teatro Rossini. Questa è la novità che l'altra volta abbiamo già svelato, per cui questa stavolta possiamo solo ribadirla, Cristian. Esattamente, ritorniamo nella casa del Festival, lì è nato nel 1948 e lì ritorna quest'anno, dopo qualche anno in cui il Teatro Rossini, prima causa dal Covid, diciamo, sono iniziate una serie di problematiche che l'hanno reso non disponibile, quest'anno finalmente ritorniamo al Teatro Rossini e devo dire, regalando alle compagnie che vengono qua da tutta Italia un ulteriore elemento di attrazione, perché sanno che è un palcoscenico importante, il palcoscenico che ospita il Rossini Opera Festival, che ospita delle stagioni teatrali di grande importanza, grandi nomi del teatro, quindi insomma è un'emozione in più che regaliamo alle compagnie ospiti. Un contenitore di grande prestigio che dà prestigio poi a chi è contenuto, insomma questa è la parte, insomma il cerchio che si chiude nel dare questa grande e bellissima opportunità, anche se devo dire che comunque anche nelle edizioni tenute al Teatro Sperimentale, non è che ci fosse particolare delusione o particolare abbattimento da parte delle compagnie. Una bella scoperta, per me in primis devo dire, vedere come il Teatro Sperimentale abbia svolto egregiamente il suo ruolo. Io sono molto legato a quello spazio, ma magari più nella sua versione di sala cinematografica e vedere come invece sia stato performante, usando un termine se vogliamo non troppo adeguato, ma che rende l'idea come sia stato performante anche nell'ospitare un festival di teatro, oltre che le stagioni di prova, è stata un'ulteriore sorpresa positiva. E allora torniamo al festival di quest'anno, ci siamo, ci siamo quasi, siamo quasi pronti, ricordiamo che comunque è opportuno, proprio per questo contenitore prestigioso, anche da parte del pubblico, preoccuparsi un attimo di avere il posto, per cui il consiglio è sempre quello di fare l'abbonamento. Fare l'abbonamento o anche la biglietteria del Teatro Rossini è a disposizione per accogliere il nostro pubblico, dare tutte le indicazioni, fare gli abbonamenti, fare anche biglietti che si possono fare anche online sul circuito Viva Ticket. Tu sai che io sono fissato con l'abbonamento, perché nell'abbonamento io ci vedo un gesto di fiducia nei vostri confronti. Bravo. Cioè io ci vedo nell'abbonamento un gesto di fiducia nei selezionatori, altrimenti se uno comincia a guardare il programma e dice allora questo mi piace, questo come fate a saperlo, questo mi piace, questo non mi piace, cioè non va bene perché si finisce per cadere volutamente ma anche con entusiasmo nei titoli magari più conosciuti, più blasonati, eccetera. Invece scegliere di fare l'abbonamento vuol dire crearsi un piccolo obbligo a fidarsi di chi ha selezionato le compagnie. È giustissimo quello che dici, devo dire che è anche un modo per combattere quella piccola pigrizza che ti può prendere all'ultimo momento. Sì, è come l'abbonamento della palestra, quando ce l'hai bisogna che ci vai in palestra. Esattamente. Se ognuno di noi dovesse andare ogni volta e pagare ogni volta, nessuno andrebbe in palestra. A teatro è uguale, è una palestra per la mente, è una palestra per le emozioni. Insomma dai, abbonatevi, fate questo abbonamento. Detto questo, naturalmente vale tutto, vale il biglietto singolo, vale l'entrata all'ultimo minuto, vale la scappata estemporanea, insomma vale tutto. Però l'abbonamento mi piace proprio nell'idea della fiducia, cioè c'è stata una giuria, di cui parleremo fra un po', che ha fatto un lavoro di selezione. C'è stata questa preselezione di cui abbiamo parlato da parte delle compagnie stesse che si sentono talmente responsabilizzate nei confronti dell'importanza di questo festival che sono le prime a decidere di non partecipare se ritengono di non essere comunque all'altezza nel momento e magari rinviano. Tutto questo lavoro, di conseguenza questo lavoro porta a un calendario. Fidiamoci di questo calendario, insomma, me lo sento col cuore. Grazie, grazie, sono parole che mi sento di sottoscrivere, ma che ovviamente sentirsele dire da terzi ha un valore ancora maggiore, quindi grazie. Molto bene, allora il concorso prevede dei premi, ci sono una serie di premi di cui poi parleremo, ma si abbina anche al prestigioso Premio Conti. Sì, il Premio Conti è un'iniziativa dell'Associazione Amici della Prosa che giunge al quinto anno quest'anno, annunceremo la sesta edizione del Premio Conti, un premio dedicato alla drammaturgia. Quest'anno una sola sezione, dopo anni abbiamo sperimentato delle forme, siamo ritornati a quella originale che era poi alla fine quella che ci convinceva di più, una sola sezione che ospita autori che proporranno titoli inediti. C'è stata già una giuria che ha selezionato i sei finalisti, i sei finalisti poi sono stati sottoposti al giudizio di una giuria di esperti, ulteriormente esperti, capitanata quest'anno da una figura di grandissimo prestigio e rilievo nel panorama teatrale italiano, perché il presidente di giuria del Premio Conti è Jacopo Fo. Jacopo Fo, tra l'altro, è un assist che mi sono autolanciato per dire che la collaborazione con Jacopo Fo fa parte di una collaborazione più ampia con la Fondazione Forame, di cui ospiteremo uno spettacolo, proprio in anteprima, il giorno prima dell'inizio degli spettacoli in concorso ci sarà lo spettacolo il 18 ottobre Pensando Franca. Quest'anno ricorrono i dieci anni della morte di Franca Rame, mamma di Jacopo Fo, grandissima attrice, ma anche donna molto impegnata nel sociale, nel civile. Questo spettacolo, studiato da Mattea Fo, nipote di Franca, figlia di Jacopo Fo, metterà insieme alcuni dei monologhi più famosi, portati in scena da tre grandi, grandi attrici, Valentina Ludovini, Lucia Vasini e Marina De Iuli, che saranno protagoniste il 18 ottobre alle 21 al Teatro Rossini. Quindi un festival che nella parte del concorso, abbiamo detto, ma anche nella parte fuori concorso propone degli appuntamenti di grande interesse. Torno al premio Conti per ricordare che il premio Conti non consiste in un più o meno prestigioso trofeo, consiste in qualcosa di molto di più. Consiste in due cose di molto di più. Uno, una parte in denaro che fa sempre comodo, un premio 1000 euro per il vincitore e a scalare per il secondo e il terzo premio, più l'impegno da parte dell'associazione di cercare di mettere in scena lo spettacolo nell'edizione del festival dell'anno successivo. Gli anni di Covid hanno creato qualche difficoltà, quest'anno purtroppo non sarà messo in scena lo spettacolo vincitore dell'anno scorso, non sarà nei giorni del festival perché stiamo ancora lavorando su questa cosa, però fino ad oggi ogni spettacolo vincitore è stato poi presentato al festival l'anno successivo perché poi un premio importante soprattutto per chi presenta lavori non rappresentati è proprio quello di vederselo rappresentare meglio ancora se all'interno di un contenitore così prestigioso come il festival. È chiaro che molti saranno autori già confermati, affermati, però se ci fosse qualche autore alle prime esperienze ti posso garantire per esperienza diretta che l'emozione di vedere rappresentato qualcosa che nasce da te è un'emozione fortissima. A me è capitato in via indiretta perché da un mio libro è stato tratto una rappresentazione teatrale che poi è stata rappresentata e pur non essendo io l'autore della pista teatrale ma essendo semplicemente l'ispiratore in quanto autore del libro, l'emozione è a vette altissime perché tu vedi trasferito, interpretato e raccontato in un rilancio qualcosa che all'inizio quando l'hai scritto è solo dentro di te. Esatto, quindi poi anche come le stesse cose che tu hai immaginato possono essere anche rilette in maniera diversa e anche con dei risvolti per l'autore stesso inaspettati. Allora cominciamo a ragionare un po' di sto calendario? Sì, io completerei, se sei d'accordo, tutto il panorama di quello che è fuori concorso e poi magari rimandare all'ultima puntata un esame più a profondità degli spettacoli in concorso. Lo diciamo spesso, il festival ha come pubblico di riferimento quello dei giovanissimi, quello dei giovani, c'è una giuria giovani frequentatissima negli ultimi anni, sempre 50 ragazzi che tutte le sere erano a teatro per giudicare gli spettacoli, ma all'interno del festival c'è una sezione ancora più dedicata ai giovani che chiamiamo GAT Festival Ragazzi, quest'anno è giunta la tredicesima edizione, propone due titoli che si terranno anche la mattina. Alessandro Barbaglia, che inseguo da un po' di tempo, quest'anno finalmente abbiamo trovato la data giusta, il 6 di sottobre, 11 del mattino, Teatro Rossini propone storie vere al 97%. Qui non voglio dire di più su questo, ma assicuro, sono pronto a raccogliere la sfida di chi verrà a teatro e sono sicuro che lascerà veramente a bocca aperta. Conoscere le storie che magari tutti abbiamo un po' sentito dire, di cui sappiamo qualche cosa, raccontate per segno fino ai finali, spesso sorprendenti, è veramente una bella esperienza. Alessandro Barbaglia in persona racconterà queste storie vere al 97%, perché poi si prende questo 3% di libertà per rendere le storie ancora più accoglienti e per essere rappresentanti di teatro, accompagnate da un musicista per uno spettacolo, 11 del mattino, ovviamente dedicato alle scuole, ma poi a chiunque avrà tempo e modo per venire. Poi un grande ritorno, perché per la quarta volta viene a Pesaro Roberto Mercadini. Roberto Mercadini ci vantiamo di averlo lanciato in questo territorio, perché la prima volta che è venuto qua, 5-6 anni or sono, lo conoscevamo veramente in pochi, qualche nerd che seguiva il suo canale YouTube, già molto frequentato in realtà. Voi stessi lo chiamavate Roberto Come ti chiami, no? Esatto. Sto scherzando, sto scherzando. Era veramente un autore di nicchia, ora è uno dei più seguiti autori di teatro di narrazione, in Italia fa spettacoli ovunque, è stato per questo anche un po' più complicato trovare l'incastro di date, per fortuna ce l'abbiamo fatto, quindi sarà con noi il 24 ottobre, e proprio perché ormai è un autore che veramente raccoglie tanti consensi, è già venuto altre volte anche fuori dal Festival GAD nel territorio, e quindi lo presentiamo in un doppio orario, quindi la mattina alle 11, in un orario più comodo e consono per le scuole, ma anche la sera alle 21. Lo spettacolo è la più strana delle meraviglie, dedicato alla vita e alle opere di William Shakespeare. Posso dire che di solito le rappresentazioni teatrali hanno dei titoli bellissimi? Evidentemente consapevoli del fatto che il titolo è la copertina, e allora fanno delle scelte belle, proprio accattivanti, mi affascinano sempre, molto più dei film, perché il film dopo ha altri strumenti per farsi conoscere, poi la traduzione è terribile, invece qui ci siamo, proprio bello, ne hai detti un paio che già sono pronto. E continuerò a stupirti, perché visto che abbiamo parlato del decennale della scomparsa di Frank Arame, che celebreremo con lo spettacolo, appunto, Pensando Franca, ricordiamo anche un altro decennale della scomparsa di un grande attore pesarese, Arnaldo Ninch, lo ricorderemo nell'ambito di una conversazione in Sala Rossa dei Comuni di Pesaro, il 25 ottobre, e anche qui il titolo, sono sicuro che ti conquisterà una vita in contropiede. Le avventure di Arnaldo Ninch tra teatro, cinema, tv e basket, perché ricordiamo che è stato un grandissimo giocatore di basket e per questo ci sarà fra gli altri anche Franco Bertini a raccontare i loro trascorsi giovanili assieme, ci sarà Rianna Ninch, figlia di Arnaldo, amica del festival e della città, Chiara Pasanisi, una giornalista che ha dedicato ad Arnaldo Ninch un importante saggio sulla sua vita d'attore, in particolare di attore pirandelliano, e Giovanni Paccapelo, presidente onorario degli Amici della Prosa, che racconterà anche dei trascorsi comuni, perché Arnaldo Ninch è stato un grande amico del festival e il festival gli ha dedicato una pubblicazione qualche anno fa, quindi una giornata dedicata al ricordo di questo grande personaggio pesarese fra gli appuntamenti fuori concorso del festival. E poi visto che ormai sono nell'abbrivio lanciato, parlando sempre del programma fuori concorso, il 6 ottobre, la mattina il già citato, storie vere al 97% di Alessandro Barbaglia, la sera torna la musica protagonista al festival. Lo scorso anno abbiamo avuto l'orchestro Olimpia, con uno spettacolo dedicato a Renata Tevaldi, quest'anno al De Maro Moltedo Jets Band, con un concerto di grande energia, di grande intensità, credo che sia un bel modo di lanciare la tirata al festival, che nella parte del concorso inizierà di lì a qualche giorno. Quindi 6 ottobre e, una nota a margine, in un festival che fa dell'accessibilità anche economica, è uno dei suoi punti di distinzione, quindi prezzi bassissimi per tutte le categorie di posto, ma il concerto in Moltedo sono ancora più bassi perché è gratuito, quindi un momento per festeggiare con la città la partenza di questo festival, 16 ottobre, ore 21, Teatro Rossini. Ogni tanto c'è qualcuno che mi dice, ma come sta andando, com'è il programma di Pesaro 2024, la cultura? Cioè, ragazzi, adesso onestamente, 2024 si sta facendo un lavoro enorme, ma qui la cultura c'è sempre. C'è sempre. Cioè, hai fatto così, un elenchino di nomi che sono appunto quelli complementari, integrativi, rafforzativi, che già da solo, non lo so insomma. Io guarda, l'ho già detto in serie di presentazione, a mo' di battuta, ma in realtà è vero. Quest'anno, l'anno scorso era la 75esima edizione, quindi anniversario, ci vuole un festival importante. Il prossimo anno sarà il Festival di Capitale della Cultura, un festival importante e quest'anno prendiamoci un anno di rilassamento. Non ce l'abbiamo fatta. Non ce l'abbiamo fatta. Doveva essere vigilia, si doveva mangiare di magro, anziché. Ci siamo fatti prendere la mano, è un festival particolarmente ricco, che speriamo incontri il consenso e la presenza di quanto più pubblico possibile. Allora, le nostre puntate, è diverso il festival? Si compongono di questa parte introduttiva nella quale io e Christian, o meglio Christian e io, raccontiamo un po' e vi invogliamo a partecipare alla edizione che sta per prendere avvio del Festival dei GAD, ma poi si concludono con una rappresentazione vera, con il video di una vera rappresentazione che viene selezionato, è stato selezionato in combutta dal Consiglio Direttivo degli Amici della Prosa, insieme alla redazione di Rossini TV, proprio perché c'è questa collaborazione forte. E quindi, se non piace, prendete anche con Paolo, che fa parte del Consiglio Direttivo. Esatto, da una parte. Poi, forse un'occhiatina in redazione, la butto a chi sono. Tutta colpa mia, perché è vero. Molto bene, molto bene. Buona visione, ci vediamo la prossima settimana con la terza e conclusiva puntata di Verso il Festival. Arrivederci. Settantaseiesimo Festival Nazionale di Arte Drammatica Al Teatro Rossini, dal 16 al 29 ottobre, torna il Festival GAD, la più antica e seguita rassegna di teatro non professionistico in Italia. Otto spettacoli in concorso, due spettacoli per ragazzi e quattro eventi speciali. Due settimane per ridere, piangere ed emozionarsi. Vivi la magia del teatro assieme a noi.